E io lo sapevo che non sarebbe stata l'unica Iena che avremmo beccato, ma mi fa un sacco piacere incontrare Ismaele. Buongiorno Ismaele, bentrovato a Sanremo. Buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori. Ismaele, la tua presenza qui è una presenza secondo me molto importante. Questa sera sul palco di Sanremo salirà Saviano che ricorderà a 30 anni di distanza dalle stragi di Falcone e Borsellino l'impegno contro la mafia. E tu caspita di impegno ce n'hai messo tanto, sei giovanissimo ma hai perfino ricevuto un Oscar nel 2015 per il tuo impegno. Sicuramente diciamo fa piacere sapere che anche all'interno di questa chermesse così importante, vista da tantissimi giovanissimi, da tantissime persone che magari la guardano per essere un po' spensierati, come giusto che sia Sanremo anche questo, per non pensare magari e passare il momento così conviviale. Poi quando arriva Saviano sicuramente a raccontarci qualcosa di così importante fa bene alla televisione pubblica un momento dedicato a questo evento così importante della nostra storia che ricordiamo i 30 anni della morte dei giudici Falcone e Borsellino che sicuramente ha segnato l'Italia intera. E il fatto che se ne continui a parlare a distanza di 30 anni è un bene. Non dobbiamo dimenticare insomma che le mafie non hanno purtroppo ancora smesso di esistere e quindi è bene che se ne parli ovunque e comunque. Bisbala questa tua voglia di portare avanti questo messaggio è nato in quel di Teleghiato o era già insito in te? Sicuramente Teleghiato è stata una bella palestra di vita, mi ha permesso di poter occuparmi anche di territorio, di inchieste. Insomma poi alla fine chi fa questo mestiere deve raccontare le cose che gli sono più vicine. Nel mio caso in quel periodo Villa Abate, il paese dove sono nato, in quel periodo c'era quello da raccontare e l'ho fatto. Non esiste un giornalista specializzato in qualcosa rispetto a chi è un altro. È quasi forse per necessità, quasi forse per esigenze territoriali. Come sei arrivato alle Iene? Come arriva un palermitano alle Iene? Beh, questa è stata una roba che è partita proprio da Teleghiato, un'inchiesta che ho fatto di mettere sindaco e giunta delle comune di Villa Abate. Ho fatto un servizio per questa cosa e poi questa cosa è stata ripresa dalle Iene. Vuoi oggi, vuoi domani ho avuto questa grande opportunità di entrare a far parte della squadra. Devo farti per forza una domanda imbecil, me ne scuso, ma per chi tifi? Qual è la tua canzone preferita semmai sei riuscito a sentire? Lo sentite tutte tifo spudoratamente per Blanco e Mahmood, spudoratamente. Vabbè, per campanilismo la rappresentante di lì? Sul podio. Io dico sicuramente Elisa, Blanco, Blanco e Mahmood, rappresentanti di lì saranno sul podio, sicuro. Giocatevele. Mi piace, mi piace questo pronostico. Possiamo dire qualcosa di stupico? Di stupico perché è stata un'intervista troppo seria, non lo so. Ma che seria, ma quale seria, assolutamente così, conviviale, forza la Sicilia e forza Sanremo. Grazie Ismaele, buon lavoro. Ciao.